Come sempre, perché non abbiate idea che questa è un'iniziativa culturale, vogliamo iniziare subito con un breve filmato, il numero uno, che è poi il numero due, ma insomma... E' un strumento, e bisogna aspettare! E' un strumento, e bisogna aspettare! E' il signor generale che ha mandato dire che prepara l'inspezione, sempre per la pista! E' un strumento! E' un strumento, e bisogna aspettare! Protestiamo quanto chiareva lui, no? Quando ci vuole, spostiamo forti tutti i semi, chiare sul cavalletto! Ma che c'è tentato a volere il caretto? C'è stato a fare che faccio uno per tutti, magari è più anziani! Ecco, Bordini Giuseppe! Ehi, v'è aperto che questa, se c'è la sedizione, in ogni modo fai quel che voleva, e che qui non ho visto niente! Non mi scusi, sergente, se la mi ignorasse non è pari alcuna, ma qui la seduzione non c'entra proprio un bel niente! E' un combattente che privatamente di sua iniziativa fa presente al signor generale e che con quel patome qui non è vita proprio! Ma no, vabbè, 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 vabbè della chiesa che gli tocca da protestare col signor generale! Noi, no, no! No, c'è bene, io te lo scaldi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 e 12, tocca a te! Eh! Tocca a te! Tocca a me! Riposo, riposo. È una visita amichevole, niente formalità. Riposo. Le faccio distribuire durante. Penso che i nostri giovanotti abbiano parte. Tu, assaggia il tuo raccio e dimmi che te ne va. Signor Sì. Ottima fondante, signor generale. Invece è uno schifo. Niente grassi e poco pasta. Questo non è cibo per uomini che combattono. Una sciacquatura di marmite, si provvede. Ciao, Lillian. Sì, l'abbiamo fatta a punta, per vedere che diceva. Magari, no, dicchè la punta. Sì, sì, lo so che il francio è meglio di così non lo si può fare, purtroppo, ma ogni tanto bisogna portare qualche soddisfazione a questi ragazzi, no? Si accontentano di così poco. Vai. Edizione della sera, della sera, della sera, della sera, Italia, Germania, Austria, e sulla piazza, lugubremente listata di nero, si effuse un rigagnolo di sangue purpureo. Un caffè, in Francia, il proprio muso a sangue imporporato da un grido ferino, il veleno del sangue nei giochi del reno, i tuoni degli obici sul marmo di Roma. Dal cielo, lacerato contro gli aculei delle baionette, gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio. E la pietà, schiacciata dalle suole, strillava «Lasciatemi! Lasciatemi!». I generali di bronzo sullo zoccolo a faccette supplicavano «Sferrateci e noi andremo!». Scalpitavano i baci della cavalleria che prendeva commiato e i fanti desideravano la vittoria assassina. Alla città accatastata giunse mostruosa nel sogno la voce di basso del cannone sghignazzante, mentre da occidente cadeva rossa neve in brandelli succosi di carne umana. La piazza si gonfiava, una compagnia dopo l'altra. Sulla sua fronte stizzita si gonfiavano le vene. «Aspettate, noi asciugheremo le sciabole sulla seta delle cocotte neviali di Vienna!». Gli strilloni si sgolavano. Edizione della sera! Italia, Germania, Austria! E dalla notte, lugubremente listata di nero, scorreva, scorreva, un rigagnolo di sangue purpureo. Non è concepibile la rivoluzione senza la guerra. Siamo al quarto anno di guerra, dal 14 al 17. Il 17 è un anno terribile per la guerra. È l'anno nel quale sono più numerosi i tentativi di autolesionismo. Sono numerose le diserzioni, dove si approva un regime assolutamente draconiano per eliminare la sedizione e la ribellione nelle trincee. E non si spiega, altrimenti, il risultato della rivoluzione se non si approfondisce questo aspetto. Nel suo saggio, Dorsi, appunto, nel 1917, un anno rivoluzionario, mette in relazione tutto quello che succede nel 17. Non ci dimentichiamo, anche noi italiani, il 17 è l'anno di Caporetto, il 24 di ottobre. Non ci dimentichiamo tutti i tentativi che vengono fatti anche sulle linee per, in maniera più o meno esplicita, per portare alla fine... Siamo vicini all'idea che la guerra deve finire in tutti i modi. Proprio qui a Torino ci saranno tantissimi disordini. Qualcuno dirà mancava uno come Lenin, se no a Torino probabilmente ci sarebbe stata una rivoluzione. Manifestazioni, scioperi. Le parole di Mayakovsky sono strepitose. Mi viene da ridere a pensare ai futuristi italiani che invece inneggiavano alla guerra in tutt'altra maniera. Mayakovsky sarà uno dei primi che presterà il linguaggio, il linguaggio della rivoluzione, perché c'è come un filo continuo, gli stessi ambienti, lo stesso modo di aggredire il linguaggio, la necessità di inventare un linguaggio per descrivere una cosa che prima non c'era. Questa è una cosa che sentirete in tutti i testi che noi citeremo. E Mayakovsky poi con il testo sulla rivoluzione. Ma accanto vorrei mettere un testo di un autore che non è molto conosciuto. Si chiama Konstantin Fedin. È un autore sovietico, uno dei pochi che è morto nel suo lettino tranquillo, perché la maggior parte degli autori, e citeremo, saranno poi scomparsi misteriosamente fra la fine degli anni 30, qualcuno anche prima. Mayakovsky si suicida nel 30, altri moriranno nel 38, nelle terribili purghe della fine degli anni 30. Konstantin Fedin scrive un romanzo costruito in una maniera cinematografica, ovvero si inizia con la fine, poi si torna al 1914, e poi si ritorna al 1922. È un romanzo che è stato pubblicato in Italia la prima volta nel 1946, da Frassinelli, poi negli anni 70 adesso non esiste più. Io ve lo faccio vedere, è l'unica copia che ho, che esiste, non è vero, è una cazzata, comunque nella provincia di Firenze c'è solo questa copia. È un romanzo interessantissimo, perché cominciamo a sentire, a entrare nel linguaggio della rivoluzione, secondo parla di una cosa che nessuno conosce molto, ovvero la sorte dei tedeschi fatti prigionieri e portati in Russia. Si snoda soprattutto sull'assedio da parte della Guardia Bianca di Pietro Grado, e ora sentiamo come riferisce della prima guerra, dell'entrata in guerra. Ancora, prego. La gente si affollava ai crocicchi sotto la sferza dell'acquazzone, come uccelli incanzati dal vento, come pecore assordate dal tuono. La gente apriva e chiudeva gli ombrelli, sbottonava e riabbottonava il colletto, toglieva e rimetteva il cappello, ma non si muoveva, aspettava un lampo. E quando il lampo guizzava furtivo al di sopra dei tetti, figgeva gli occhi su un brandello di edizione straordinaria appiccicata ai muri, per lasciarsi ancora una volta abbacinare dalla parola ARCIDUCA! Poi si staccavano dal muro, sferzati percossi, intronati dal temporale e dall'acquazzone, e si riunivano alla folla in attesa sui crocicchi e di nuovo li abbacinava la parola ARCIDUCA! e rimanevano immobili in attesa del prossimo lampo. Così facevano tutti, senza differenza di età, di professione, di classe sociale, poiché in quella notte, accecata dalla parola ARCIDUCA, la vecchia armonia morì e gli uomini, costernati, si dettero a cercarne una nuova. Gli uomini si accorsero in quei giorni che al mondo esistevano i sovrani, la loro esistenza reale diventò ad un tratto evidente dopo che la parola ARCIDUCA si fu inserita nel concentro armonioso, spezzando il ritmo, alterando la misura e deformando la tonalità. Si scoprì che i re non vivono soltanto sulle facciate dei giornali e delle riviste e nelle vetrine dei fotografi. Si scoprì che i re non si limitano a viaggiare e a trasferirsi dalla regia invernale a quell'estiva, a sorridere nei ritratti e a festeggiare ogni anno il loro onomastico. Si scoprì che i re non esistono soltanto nella storia e nella geografia, cioè in altre parole sui banchi della scuola. No. No, i re vivono realmente di vita autentica. I re hanno un cranio che reagisce alle pallottole proprio come i crani dei sudditi e i re sanno gridare così forte che le loro voci si fanno udire anche nelle località più lontane dalla loro reggia. Dio mio! Che quantità di re saltano fuori ad un tratto? Ogni giorno, ogni ora ne sbucano fuori dalle regge come gli scarafaggi dalle fessure. Per finire invadono tutte le colonne dei giornali ed è giunto il momento di porre un freno a questo guazzabuglio imperiale. Siamo stufi di ascoltare le loro opinioni discordi, di tenere dietro a questa Babilonia. Siamo stufi di rovinarci la vista a leggere le infinite note memorandum, le dichiarazioni, i manifesti. Siamo stufi. Forse non è ancora chiaro dove ci chiami il sentimento del dovere? Ascoltatelo questo sentimento, il sentimento del dovere. Date retta a quello solo e a nient'altro. non ci dimentichiamo che la guerra è una guerra nata per essere una specie di passeggiata. Vi vorrei ricordare che nell'agosto del 14 la maggior parte dei regnanti è a fare le vacanze in barca mentre si stanno per scatenare le furie della prima guerra mondiale. È una guerra che trasforma profondamente gli uomini. Gli uomini che tornano dal fronte hanno visto cose che noi umani non ci possiamo nemmeno immaginare. È quella che farà fare un salto notevole anche allo stesso atteggiamento dei bolshevichi quando saranno tornati. Bolshevichi che sono al centro di una polemica già negli anni 16 perché fanno propaganda ovviamente contro la guerra. Ce ne parla in maniera diffusa in questo agile volumetto che è Il Placido Don. Sono quattro volumetti che scrive Mikhail Sholok Sholokov fra il 28 e il 40 questo romanzone gli varrà il premio Nobel nel 65 quindi lui lo scrive in piena era staliniana e quindi le parole che voi sentite dovete anche come dire mettere in relazione al fatto che siamo in pieno periodo staliniano e Sholokov descrive la vita di questo Melekov che è un personaggio che vive fra i cosacchi che ha una grande difficoltà a accettare i valori del bolshevismo ma ha anche una grandissima difficoltà a accettare i valori della Guardia Bianca voi sapete che a partire dal gennaio del 19 inizia del 18 scusate inizia una vera e propria guerra civile che finirà soltanto nel 22 sentiamo che cosa dice Sholokov a proposito della propaganda dei bolshevichi sul fronte va bene perderemo qualche centinaia di migliaia di soldati ma il dovere di ognuno di noi nutriti da questa terra è di difendere la patria dal gioco straniero Listinischi accese una sigaretta toltesi gli occhiali ne puliva le lenti col fazzoletto e guardava Bunciuk con aria interrogativa dai suoi occhi miopi indifesi gli operai non hanno patria scandiva Bunciuk c'è una profonda verità in queste parole di Marx non abbiamo patria non l'abbiamo mai avuta potrete nutrirvi voi di patriottismo questa maledetta terra vi ha fatto nascere vi ha allevato ma noi noi siamo cresciuti come l'erbaccia come la sterpaglia nei burroni noi e voi non possiamo fiorire contemporaneamente e lì cavò dalla tasca del cappotto un gran fascio di carte vi rovistò a lungo voltando le spalle a Litinischi e avvicinatosi al tavolo stirò con una larga mano dalle vene gonfie un foglio di giornale ingiallitano al tempo volete sentire? chiese a Litinischi che cos'è? un articolo sulla guerra ve ne leggerò un brano io non sono molto istruito non so parlare bene ma qui tutto è chiaro come disteso sul palmo della mano il movimento socialista non può vincere nell'antica cornice della patria esso creerà forme nuove più alte di convivenza sociale dell'umanità quando le richieste legittime e le aspirazioni delle masse lavoratrici di qualsiasi nazionalità saranno soddisfatte per la prima volta in un'unità internazionale basata sull'eliminazione degli attuali confini ai tentativi della borghesia odierna di dividere gli operai col mezzo dell'ipocrita necessità di difendere la patria gli operai coscienti risponderanno con tentativi sempre rinnovati di stabilire l'unione degli operai delle diverse nazionalità nella lotta comune per distruggere lo stato borghese di tutte le nazioni la borghesia inganna le masse nascondendo la rapina imperialistica dietro la vecchia ideologia della guerra nazionale il proletariato scoperto l'inganno annuncia la trasformazione della guerra imperialistica in guerra civile Bunchuk che leggeva lentamente a voce bassa terminò fra l'attenzione tesa di tutti la bandiera proletaria della guerra civile se non oggi domani se non durante questa guerra durante la guerra prossima radunerà intorno a sé non solo centinaia di migliaia di operai e coscienti ma anche milioni di semi proletari e piccoli borghesi che ingannati dallo sciovinismo odierno non solo saranno terrorizzati e schiantati dagli orrori della guerra ma resi più chiaroveggenti più colti più temperati più organizzati e preparati per la guerra contro la borghesia del proprio paese come contro quella dei paesi stranieri dopo un lungo silenzio Merkulov chiese non sarà stato stampato in Russia no e dove? a Ginevra è del numero 39 del socialdemocratico dell'anno 1914 e di chi è quest'articolo? di Lenin ma non è il capo dei bolshevichi? Bunchuk tacque mentre arrotalavano con cura il giornale le sue dita erano scosse da brevi fremiti Merkulov si arruffò i capelli brizzolati e disse senza guardare gli altri ha un'enorme forza di persuasione che il diavolo se lo porti ma qui c'è della roba che fa pensare Lintinischi cominciò a parlare con ardore era sconvolta bottonandosi il colletto della camicia camminando rapidamente da un angolo all'altro diceva come gettando una manciata di piselli quell'articolo è il misero tentativo di un uomo che buttato fuori dai confini della patria cerca di influire sul corso della storia nel nostro secolo realistico le profezie non attaccano più soprattutto le profezie di questo genere un vero russo passerà oltre spregiando queste grida isteriche chiacchiere la trasformazione della guerra nazionale in guerra civile com'è tutto abietto tutto ciò bunciuk escramò calmico aspettate l'indizischi bunciuk ascoltate ebbene supponiamo che questa guerra si trasformi in guerra civile e poi ammettiamo che riusciate a buttare giù la monarchia quale governo allora ci dovrebbe essere secondo voi quale potere il potere del proletariato un parlamento forse non basta e che cosa allora deve esserci una dittatura dei lavoratori così e l'intellettualità e i contadini che parte vi avranno i contadini verranno con noi parte degli intellettuali anche con gli altri ecco cosa faremo con gli altri bunciuk storse con forza e rapidamente un pezzo di carta che aveva in mano l'agitò mormorando tra i denti ecco cosa ne faremo volate alto ghignolli tisinski e ci poseremo in alto concluse bunciuk preparatevi prima un po' di paglia per terra mi viene in mente vedendo voi quello che dice Luciano Canfora rispetto che è una persona molto più intelligente di me rispetto alla rivoluzione russa uno dei grandi delle conquiste sulle quali non si discute è l'alfabetizzazione di milioni e milioni di persone attraverso gli articoli attraverso i volantini eh quest'impegno pazzesco per cui la rivoluzione lo sentiremo più e più volte passa attraverso le parole di Lenin lette e attraverso gli opuscoli sui quali le persone stanno la notte c'è per esempio un personaggio simpaticissimo dell'anno nudo di Pilniac che di notte studia la dottrina marxista non ci capisce assolutamente niente però impara a leggere Canfora faceva questa riflessione noi siamo un paese piccolissimo che è riuscito forse a avere un po' di alfabetizzazione dopo cento anni di unità dal 1861 al 1961 lì non è mai troppo tardi il grande maestro Manzi ma io dico la cazzata mi interrompe ma invece nell'Unione Sovietica sicuramente questo è un grandissimo portato come un'altra cosa che sento di dover dire immediatamente un'altra cosa che nel nel 18 per esempio vengono approvate una serie di leggi a favore delle donne sull'uguaglianza maschio-femmina pazzesche di un livello straordinario poi dopo guarda caso nel 21 con la nuova economia con la NEP si fa un passo indietro e si cerca di riportare la donna al centro del focolare e gli si vuole destinare questa specie di figura di baluardo della famiglia ma noi abbiamo qualcosa anche per questo aspetto perché Alexandra Callontai che è stata la prima donna ministro della storia ha scritto un libro molto bello che si intitola L'Ero Salato ne parleremo dopo sul come devono comportarsi i compagni rispetto all'amore questa stanchezza questa voglia di farla finita è il motivo per il quale alle manifestazioni della fine di febbraio a San Pietroburgo non succede quello che era successo il 22 gennaio del 1905 l'esercito non spara e quindi le manifestazioni hanno successo cade il governo si forma un governo provvisorio il cui uomo forte è Kerensky è il ministro della guerra ma la cosa più importante in assoluto è che torna dopo poco Lenin ma prima sentiamo come descrive il nostro amico Majakowski la rivoluzione cittadini oggi sprofonda il millenario prima oggi dei mondi viene rivisto il fondamento oggi la vita rifaremo di nuovo sino all'ultimo bottone cittadini questo è il primo giorno del diluvio operaio accorriamo in aiuto al mondo scombussolato che pianti la folla le scuri nel cielo che urlino furore le sirene della flotta a noi abitanti della terra ogni abitante della terra è amico tutti tra le macchine negli uffici nelle miniere ci sono fratelli noi tutti sulla terra siamo soldati di un solo esercito che crea la vita le orbite dei pianeti la vita delle potenze dipendono dalle nostre volontà nostra è la terra il nostro è l'aria nostre e le miniere di diamanti nelle stelle e noi mai mai a nessuno a nessuno permetteremo di squarciare coi proiettili la nostra terra di straziare con le punte di lancia affilate la nostra aria quale odio ha spezzato in due la terra chi il fumo ha fatto impennare sul bagliore dei massacri forse che un sole non basta a tutti o il cielo sopra di noi è poco azzurro non urla la viltà sotto grigi pastrani non è il grido di quelli che non hanno niente è questo il tuono dell'immenso popolo io credo nella grandezza del cuore umano sulla polvere alzata dalle battaglie su chi si azzuffa disperando nell'amore oggi in verosimile verità si avvera la grande eresia dei socialisti scusate se è poco sentite potenza che potenza di fuoco c'ha Majakoski ma invece sentite la prosa piana ma assolutamente di una lucidità impressionante di Lieni Lieni intorna alla stazione Finlandia che è la stessa stazione che accoglierà qualche mese più tardi un certo John Reed che arriva dagli Stati Uniti e che scriverà i dieci giorni che sconvolsero il mondo ecco sentite riassunte le tesi di aprile che sono contraddistinte principalmente da tre principi pane fine della guerra tutto potere ai soviet l'esperienza dei soviet e l'esperienza dei consigli è quella che viene portata avanti con più diciamo entusiasmo da parte dei bolshevichi dopo la rivoluzione del 1905 nel nostro atteggiamento verso la guerra non è ammissibile la benché minima concessione al difensismo rivoluzionario l'originalità dell'attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima fase della rivoluzione che ha dato il potere alla borghesia a causa dell'insufficiente grado di coscienza e di organizzazione del proletariato alla sua seconda fase che deve dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini non appoggiare in alcun modo il governo provvisorio riconoscere che il nostro partito è minoranza spiegare alle masse che i soviet dei deputati operai sono l'unica forma possibile di governo rivoluzionario scusa un attimo ripeti riconoscere che il nostro partito è minoranza è minoranza spiegare alle masse che i soviet dei deputati operai sono l'unica forma possibile di governo rivoluzionario ecco no no volevo sottolineare questo aspetto democratico di quello che dice lì prego non mi ha scritto io non lo voglio dire niente repubblica parlamentare ritornare ad essa dopo i soviet dei deputati operai sarebbe un passo indietro ma repubblica dei soviet dei deputati degli operai dei salariati agricoli e dei contadini in tutto il paese dal basso in alto sopprimere la polizia l'esercito ossia sostituirlo con la milizia popolare e il corpo dei funzionari lo stipendio dei funzionari tutti elegibili rallento apposta io lo enfatizzo vai lo stipendio dei funzionari tutti elegibili e revocabili in qualsiasi momento non deve superare il salario medio di un buon operaio un attimo di silenzio no così così per me fatelo per me confiscare tutte le grandi proprietà fondiarie nazionalizzare tutte le terre del paese e metterle a disposizione di soviet locali di deputati dei salariati agricoli e dei contadini fusione immediata di tutte le banche del paese in un'unica banca nazionale posta sotto il controllo dei soviet dei deputati operai il nostro compito immediato non è l'instaurazione del socialismo ma per ora soltanto il passaggio al controllo della produzione sociale e della ripartizione dei prodotti da parte dei soviet dei deputati operai compiti del partito mettere l'olio su quella porta no scusate convocare immediatamente il congresso del partito modificare il programma del partito principalmente cambiare il nome del partito e rinnovare l'internazionale è un'estate complessa perché si sireano due poteri evidentemente a San Pietroburgo che poi si chiama già Pietrogrado e Mosca forte proletariato forti soviet nelle elezioni locali ottengono i bolshevichi una grossa maggioranza nelle campagne ancora sono molto più forti i social rivoluzionari poi ci sono i cadetti che partecipano al governo governo e bolshevichi non collaborano nell'estate c'è un tentativo simpatico da parte di un ufficiale Kornilov fra la fine di agosto e primi di settembre di fare un colpo di stato come per rimettere le cose come era successo nel 905 vi concediamo una Duma che è assolutamente una specie di carnevale perché non serve a niente lo Zar torna al proprio al proprio potere ma invece dalle parole di John Reed che non è semplicemente quello che ha scritto i dieci giorni che sconvolsero il mondo John Reed è un personaggio veramente strepitoso basti per tutti il fatto che le sue ceneri sono al Cremlino cioè è l'unico accanto alla mummia di Lenin c'è la tomba di Stalin e poi c'è lui c'è John Reed è stato uno dei fondatori del partito comunista americano è uno che nel 13 nel 14 ha partecipato andando in galera agli scioperi negli Stati Uniti lo sciopero del settore della seta poi è stato in New Jersey dove ne ha anche buscato di santa ragione è stato sul fronte orientale quindi lui si è fatto anche un po' di mesi durante la guerra per fare cronista voglio sapere se è vera questa cosa del cocomero è vera questa cosa del cocomero la vuoi raccontare? la racconto io no perché secondo me non è vera Victor Serge grandissimo strepitoso che vi consiglio assolutamente un grandissimo che ha scritto autobiografia di un rivoluzionario che è un libro che andrebbe adottato a scuola mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo con poche note poche note poche note testo degli anni 40 perché lui muore nel 47 di infarto in Spagna racconta di aver conosciuto John Reed e che John Reed quando partecipa per tre anni all'attività del governo sovietico e a un certo punto va a Baku dove c'è un congresso perché si pensa che la rivoluzione non sfondalo in occidente perché viene costruito il cordone sanitario vi ricorderete avrete visto anche qualche immagine del film Reds dove dobbiamo passare dalla Finlandia a fare un sacco di giri vanno a Baku per fare un congresso per portare il comunismo in oriente e pare dice John Reed che dice Victor Serge che John Reed mangia un cocomero e muore di tifo il fatto che sia morto di tifo è la verità il fatto che sia stato un cocomero poi non so come dite cocomero voi anguria un'anguria perché io mi dimentico e c'è sempre questo problema linguistico quando dico la scilla capite così se no c'è qualcuno magari in sala che fa da traduttore simultaneo John Reed è un grande ed è stato lì è uno che dava del tuo a Trotsky siccome sapeva un sacco di lingue venne subito utilizzato per tenere rapporti con gli esponenti dei partiti socialisti di mezzo mondo e nei dieci giorni che sconvolsero il mondo c'è questo discorso di Trotsky altro personaggio interessante ebreo come un sacco di altri anche questo è un altro aspetto interessantissimo l'intelligenza che partecipa alla rivoluzione russa verrà poi definitivamente decapitata con la fine degli anni trenta con le grandi purghe degli ebrei ma voglio dire prego il governo provvisorio è assolutamente impotente in realtà è al potere la borghesia ma questo è mascherato da una coalizione fittizia con i partiti socialisti guerra fondai i contadini stanchi di attendere la terra che è stata loro promessa si ribellano e in tutto il paese in tutte le classi lavoratrici si manifesta lo stesso disgusto il dominio della borghesia può mantenersi solo con la guerra civile il metodo di cornilov è il solo che potrebbe assicurarle il potere ma è proprio la forza che manca alla borghesia l'esercito è con noi i conciliatori e i pacifisti i menscevichi hanno perduto ogni autorità perché la lotta tra contadini agrai tra operai e padroni tra soldati e ufficiali è divenuta più acuta e più irreconciliabile che mai solo con l'azione concertata delle masse popolari e con la vittoria della dittatura proletaria solo così la rivoluzione potrà terminare la sua opera e il popolo potrà essere salvo sono i soviet che rappresentano il popolo nel modo più perfetto per la loro esperienza rivoluzionaria le loro idee e i loro fini essi poggiano direttamente sulle truppe del fronte sugli operai delle officine sulle campagne e sono così la vera spina dorsale della rivoluzione si è tentato di costituire il potere senza i soviet si è fallito completamente si fomentano attualmente ogni specie di progetti contro rivoluzionari nei corridoi del consiglio della repubblica il partito cadetto rappresenta la contro rivoluzione militante di contro adesso i soviet rappresentano la causa del popolo tra i due campi non vi sono gruppi importanti è la lotta finale la contro rivoluzione borghese organizza le sue forze e aspetta il momento per attaccarci noi termineremo l'opera nostra appena incominciata in marzo ma che ha fatto dei progressi durante l'affare Cornilo poi passando alla politica estera del nuovo governo il nostro primo atto sarà l'armistizio immediato su tutti i fronti e una conferenza dei popoli per discutere le condizioni di una pace democratica la pace che noi otterremo sarà tanto più democratica quanto più lo spirito rivoluzionario sarà vivace in Europa se noi fonderemo qui il governo dei soviet questo sarà un potente fattore per la pace immediata in Europa perché tale governo si rivolgerà direttamente senza intermediari a tutti i popoli per proporre loro un armistizio al di sopra dei governi nella conclusione della pace la Russia rivoluzionaria avrà come direttive nessuna annessione nessuna indennità diritto dei popoli a disporre di se stessi creazione della Repubblica federale europea alla fine di questa guerra io vedo l'Europa rigenerata non dai diplomatici ma dal proletariato la Repubblica federale europea gli Stati uniti d'Europa ecco ciò che dovremo avere le autonomie nazionali non è più sufficiente l'evoluzione economica esige l'abolizione delle frontiere nazionali l'imperialismo se l'Europa resta spezzettata in aggruppamenti nazionali l'imperialismo ricomincerà la sua azione solo una Repubblica federale europea darà la pace al mondo e con il suo fine sorriso leggermente ironico egli terminò ma senza l'entrata in azione delle masse europee questi scopi non potranno essere raggiunti oggi è chiaro che non c'è possibilità di conciliare un governo che vuole continuare la guerra per i mille interessi economici ma anche per facciamo finta per la parola data agli altri alleati dell'intesa e qualcuno che ragiona in questi termini non è possibile e infatti arriviamo alla fatidica data ieri 7 novembre la presa del palazzo d'inverno si fanno piangere ora o si fanno piangere dopo prima sentiamo la descrizione di Lenin allora maia koski maia koski ne fa un santino ovviamente parla di di Lenin come se fosse una specie di dio in terra lo ama proprio fisicamente victor serge ne parla in tre o quattro pagine e ci spiega tutta la psicologia john reed è quello che dà la descrizione un pochino più breve quindi per i bene che vi vogliamo prego erano esattamente le 8 e 40 quando una tempesta di applausi annunciò l'entrata della presidenza con Lenin il grande Lenin piccolo di statura raccolto la grande testa rotonda e calva infossata nelle spalle gli occhi piccoli il naso camuso la bocca larga e generosa e il mento pesante era completamente sbarbato ma la barba così conosciuta prima e che d'ora innanzi sarebbe sempre rimasta cominciava già a rispuntargli sul viso il vestito era consunto i pantaloni troppo lunghi poco fatto fisicamente per essere l'idolo della folla egli fu amato e venerato come pochi capi nella storia uno strano capopopolo capo solo per la forza della sua intelligenza egli non era brillante non aveva spirito era intransigente e appartato senza alcuna particolarità pittoresca ma aveva il potere di spiegare le idee profonde in termini semplici di analizzarle concretamente di analizzare concretamente le situazioni e possedeva la più grande audacia intellettuale di ti queste sono alcune oddio alcune scene da Reds che è il film diretto e prodotto da Warren Beatty nell'81 ed è veramente la traduzione quasi letterale dei dieci giorni che sconvolsero il mondo di John Reed e per quello che ve l'abbiamo messo un po' perché voglio vedere chi piange quando cantano l'internazionale in russo perché se non piangete non avete cuore secondo e quindi non vi voglio più frequentare secondo c'è anche l'occupazione del palazzo d'inverno che è il video di Cina di Cina di Cina Dura 26 ore questo film. 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 E questo è l'interno. John Reed racconta che iniziano a saccheggiare e poi invece i bolshevichi gli dicono di non portar via nulla perché non è roba loro. Dura 26 ore questo film. 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 Dopodiché c'è una cosa importante da dire. Victor Serge è un anarchico come formazione e quindi è molto critico. Soprattutto è molto critico dal punto di vista, lui odia tutto quello che è centralizzazione, controllo. Avete sentito Lenin almeno teoricamente, parla di polizia popolare, di tutto. Però ovviamente c'è anche un altro tema che all'inizio di dicembre si cominciano le trattative, alla fine di dicembre si firma la pace di Brest-Litovsk, una pace vergognosa perché ai russi viene portato via un sacco di roba. Ed è un paese che inizia di fatto a gennaio con lo scioglimento della Costituente, dell'Assemblea, inizia una vera e propria guerra civile. Ma esiste e inizia anche un accerchiamento, voi sapete i finanziamenti e gli eserciti degli altri paesi e devono far fallire per forza la rivoluzione. Ma Victor Serge mette in evidenza un aspetto molto molto importante che è quello che poi porterà all'azione della sceca. Prego. Erano stati creati durante la guerra in Germania, in Francia, in Inghilterra e che venivano chiamati capitalismo di guerra. Speravano che venuta la pacificazione lo stato d'assedio sarebbe caduto da sé e che si sarebbe tornati a una certa democrazia sovietica su cui nessuno aveva più le idee chiare. Le grandi idee del XVII, che avevano permesso al partito bolscevico di trascinare le masse contadine, l'esercito, la classe operaia e l'intelligenza marzista, erano evidentemente morte. Per esempio cita un caso che purtroppo il governo terrà nascosto e i bolscevichi per primi cercheranno di nascondere. Viene approvata la fine della pena di morte delle leggi speciali e la sceca che viene invitata a rilasciare tutti i prigionieri dei primissimi mesi, invece di lasciarli li uccide. Si parla di intorno 500 persone. Abbiamo un romanzo molto strano che è questo, si intitola La scheggia di Vladimir Zazubrin. È stato pubblicato nel 1989 e c'è un motivo per cui è stato pubblicato nel 1989, anche se è stato scritto nel 1923, perché è praticamente una sorta di diario romanzato del lavoro che fa un cechista ed è un lavoro come uno andasse in fabbrica, semplicemente va a ammazzare le persone. Prego, legge un pezzetto. Questo è un autore che misteriosamente sparisce nel 1938, misteriosamente, che aveva avuto un certo successo nei primi anni 20 con un romanzo che si intitolava I due mondi, poi diventa un autore super secondario, soprattutto perché insiste a voler pubblicare questo romanzo e non capisce perché non glielo fanno pubblicare. Questo è un aspetto interessante. Per molti autori i bolscevichi sono un'umanità nuova. Il parto di una terra che finalmente ha cambiato epoca, che li accomuna quasi più agli uomini primitivi che non a degli uomini, come dire, occidentalizzati. Srubo si innerbosisce, è pallido, si rigira sulla sedia, si mastica i baffi, si morde la barba. I suoi occhi semplici, occhi umani che hanno bisogno di luce e di colore si fanno più scuri, si rorano di rabbia e il suo cervello stanco pretende riposo, si tende ad arco e scocca pensieri. Spettatori non paganti del teatro sovietico, impiegati sovietici, conosco anche voi. Per metà logore giubbe inglesi con le spalline tirate via, per metà ex signorine di buona famiglia con vestiti rattoppati, boa sporchi e spelacchiati, state lì a fare pissi pissi, sgranate gli occhi, mi evitate come se avessi la peste, animucce vigliacche, però vi fate la spia l'un l'altro, vi sbracciate a esprimere la vostra lealissima lealtà in risme di fogli, vipere, schifose. Lo so, lo so, tra voi ci sono anche comunistucci che sono riusciti a intrufolarsi nel partito, ci sono anche i cosiddetti socialisti, molti di voi cantavano e ancora oggi cantano con ululati di entusiasmo, spietata vendetta a tutti i banditi, vendetta e morte, bastone ammazza la feccia maledetta, tingeremo i nemici di sangue scarlatto, canaglie, si tengono alla larga, vi tenete alla larga dai cechisti. I cechisti sono roba di seconda qualità. Vigliacchi, ipocriti, miserabili, scansa fatiche, sui libri e sui giornali teoricamente non siete contro il terrore, riconoscete che è necessario, ma il cechista che mette in pratica la vostra teoria, voi, voi lo disprezzate. Dite il nemico è stato ormai disarmato, ma finché è vivo il nemico non è disarmato, la sua arma principale è la testa, è stato dimostrato più di una volta, Krasnov e gli Junker che avevamo nelle nostre mani e che non abbiamo annientato. Voi mettete l'aureola dell'eroe ai terroristi e social rivoluzionari, e Sazonov e Kalianev e Balmasev, non erano forse anche loro dei carnefici? Certo, loro lo facevano sullo sfondo di bei fondali pieni di patos, con slancio impetuoso, per noi invece è il lavoro trantran quotidiano. E il lavoro è la cosa di cui più avete paura. Noi svoliamo un enorme lavoro preparatorio, nero sporco. Voi non amate la nera manovalanza, voi amate la pulizia, in tutto e per tutto, e dappertutto compresi i cessi, ma dal vuoto a cessi che li pulisce vi ritraete con disgusto. Vi piace la bistecca al sangue, ma macellaio per voi è un'ingiuria. Tutti voi, dal reozionario più nero al socialista, giustificate la pena di morte, ma dal boia state alla larga, ve lo raffigurate come un bestiale maiuta, del carnefice parlate sempre con ribrezzo, ma io, canaglie, vi dico che noi carnefici abbiamo il diritto di essere rispettati. Mi fa paura. Capito? Mi lascia affascinare. Se c'è un dottore in sala, ho paura che gli venga e gli parta l'ingolo. No, ma è presa così. Oh, se mi è presa così, mi è presa così. Ma è presa la mano. Mi fa un po' paura. No, è così. Perché di solito è in minoranza, ma sa, ho le minoranze, si scherzano. Allora, c'è da dire... No, scome non gliel'avevo mai fatta questa roba qui, allora sei un po' spaventato. Mi fa paura. Questo non te lo fa... No, quello buttalo, buttalo via, poi se no si incazza. No, no, buttalo via. Dicevo, è ovvio che, l'avevamo detto anche l'altra volta, c'è un'umanità nuova, c'è un'idea molto più anche, so come dire, i bolshevichi portano, spesso vengono rappresentati con questi giubbotti di pelle, con la pistola. Sono il nuovo, sono una cosa... Tanto che Alexander Bloch addirittura paragona questi dodici della Guardia Rossa a dodici discepoli che girano, no? E alla fine è indubbiamente una sorta di sovrapposizione perché incontrano durante la loro ronda addirittura Gesù Cristo. E non sto scherzando. Non ebbe molti consensi quando scrisse, però è un testo che ha influenzato tantissimo la prosa e anche la poesia successiva e diceva rispetto a questo ormai si profila un nuovo individuo, una nuova razza umana. Questo movimento tende non verso l'uomo etico, appunto il cechista o il bolshevico, non politico o umanista, ma verso l'uomo artista. Lui solo sarà capace di vivere e di agire avidamente nei disordini e nelle tempeste della nuova epoca verso la quale l'umanità tende irresistibilmente. Molti di questi autori parlano di questo caos, è come una sorta di apocalisse. Ricordiamoci, ricordiamoci, Dostoevsky l'aveva già detto nei demoni e anche la terza parte della Guardia Bianca di Bulgaco finisce con una citazione dall'apocalisse. Quindi l'idea di essere di fronte a qualcosa di assolutamente inconcepibile è comune a gran parte di scrittori. Tranne, dobbiamo dire, ci sono alcuni scrittori che se ne fregano altamente, tipo Mandelstam, tipo la Akhmatova, che vivono appartati dalle loro parti. La Svetaeva, invece, che ha come marito un ufficiale bianco alla quale vengono sequestrati tutti i beni e quindi è una che ne subisce e basta le conseguenze e che si trova separata dal marito, scrive delle cose per sé, ovviamente non pubblicate. Una è questa, per esempio, una piccola riflessione. Tutta la rivoluzione russa per i prossimi cinque anni, terrore, guerra civile, fucilazioni, avamposti, vandea, abbrutimento, perdita di fisionomia, gli spiriti delle forze naturali liberati dalla prigionia, sangue, sangue, sangue. scriverà anche un ciclo di poesie che ovviamente non pubblica, il campo dei cigni, nel quale assimila la guardia bianca ai cigni che volano. Ovviamente, diciamo, ecco, diciamolo, lei tornerà e si suiciderà, prima il pane esilio e poi torna. Parliamo di quelli che furono i compagni di strada, che erano un gruppo di scrittori, quelli più famosi, che non erano, che hanno fatto un pezzo di strada con i bolshevichi. E io partirei da Bulgaco, così, per simpatia. Che ne pensi? Vai. La prima cosa che troviamo è l'ascito, siccome siamo al circolo dei lettori, io vi faccio vedere i libri come l'altra volta, tipo Pento la pressione, ma non è che me ne... Cioè, io... Sì, no, quello lo so. Dopo, prima che lei venga lì... Questo è uscito non da molto, anzi da poco. È un libro di Todorov, che conoscete sicuramente, che si intitola L'arte nella tempesta. E sono una serie di ritratti di artisti che hanno collaborato alla rivoluzione. C'è una sezione che poi si intitola Necrologi, perché sono tutti finiti male. Sì. Da questo brano, sentiamo cosa ne pensa Bulgakov, nell'immediata, siamo ai primi del 18. Il tempo passato ritornerà. Il presente è tale che mi sforzo di vivere senza notarlo, non vedere e non ascoltare. In occasione del mio recente viaggio a Mosche e a Saratov ho avuto l'opportunità di vedere tutto con i miei occhi e non vorrei mai più rivederlo. Ho visto le folle inespressive rompere i vetri dei treni mentre ululavano e proferivano ingiui e ignobili. Ho visto colpire persone. A Mosca ho visto case demolite e incendiate, volti ottusi e bestiali. Ho visto folle assediare gli ingressi delle banche, sequestrate e chiuse, code di affamati davanti ai negozi, ufficiali braccati in condizioni pietose. Ho visto giornali dove tutto sommato non si parla che di una cosa, del sangue che scorre a sud, a ovest e a est. Ho visto ogni cosa con i miei occhi e una volta per tutte ho capito che cos'è successo. Scrive la Guardia Bianca che è ambientata in Ucraina. È un romanzo che parla di perdenti perché i bolshevichi non ci sono. C'è questo Pletura che è un personaggio quasi mitico che occupa la città in questione e è un romanzo assolutamente visionario. Ecco, assolutamente visionario. lo dirò per altri, almeno altri due o tre romanzi. La trama è molto difficile da seguire, almeno per me. Forse anche per te. Nel senso che sentiamo... Solo perché ero letto in russo. No, no, no. Il centro d'azione e la famiglia Turbin che sono alcuni fratelli, eccetera, vivono a casa di questo Vassili che a un certo punto fa questa riflessione. Prego. Sulla proprietà privata. E così Fyodor Nikolaevich tutto quello che avevo guadagnato con un lavoro tenace in una sera è passato nelle tasche di non so che mascalzoni che sono ricorsi alla violenza. Non creda che io disapprovi la rivoluzione. No, no. Capisco benissimo le ragioni storiche che hanno provocato tutto ciò. Ma ne converrà anche lei da noi in Russia in un paese indubbiamente tra i più arretrati. La rivoluzione è già degenerata in una rivolta alla Pugachov. Guardi quel che sta accadendo. In un paio d'anni c'è avvenuto o meno qualsiasi appoggio della legge. La benché minima difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino. Gli inglesi dicono Gli inglesi certo borborò Casas sentendo che una soffice parete cominciava a separarlo da Vasilisa. C'è anche una roba un po'. Ma come si fa a dire la tua casa e la tua fortezza se quando sei ben chiuso nel tuo appartamento niente ti garantisce che una banda sul tipo di quella che è stata da me oggi non ti privi non solo dei beni ma forse addirittura della vita. Facciamo un bel impianto di segnalazione e rafforziamo le imposte alle finestre rispose non molto a proposito Caras con voce sonnolenta. Ma senta Fiodor Nikolaievich non si tratta solo della segnaletica caro mio non c'è segnalazione che valga affermare lo sfacelo e la disgregazione che si sono annidati nelle anime degli uomini ma scusi la segnalazione è un caso particolare e se supponiamo si guasta la ripareremo. Ma non si può mica organizzare tutta la vita su un sistema di segnalazioni e sulle rivoltelle non si tratta di questo. Io parlo in generale generalizzando per così dire il fatto è che scomparsa la cosa essenziale il rispetto per la proprietà e se così è è finito tutto se è così siamo perduti io sono un convinto democratico per natura e vengo dal popolo mio padre era un semplice caposquadra delle ferrovie tutto quello che vede qui e tutto quello che oggi mi hanno portato via quei furfanti tutto è stato guadagnato unicamente con le mie mani e mi creda io non ho mai difeso il vecchio regime al contrario le confesserò in segreto che sono democratico costituzionale ma adesso che ho visto con i miei occhi dove tutto ciò va a finire le giuro che se si viene formando in me la fatale convinzione che una cosa sola ci può salvare da un punto di vista sì l'autocrazia sì la peggior dittatura che si possa immaginare l'autocrazia è chiaro che Bulgakov che noi conosciamo che è rimasto in Margherita voglio dire si difende da quelle che potrebbero essere accuse perché lui descrive la situazione pre-arrivo dei bolshevichi il romanzo viene pubblicato nelle prime due parti nel 25 e nel 26 poi lui non si capisce lui non si sa spiegare come mai divene negata la pubblicazione si racconta addirittura di una storica mitica telefonata di Stalin addirittura che lo praticamente lo convince a lavorare al teatro al teatro Marischi al teatro dell'opera di Mosca lui si vanterà di fare una versione teatrale che avrà un grande successo ma siccome Bulgakov è Bulgakov prende nota di tutte le recensioni 298 negative e 3 positive forse la versione un successone no un successone popolare ma diciamo ecco cercano di fargli capire che non è quella l'aria che tira a questo punto io passerei siccome siamo entrati in un registro grottesco alla scena sempre di Costantin Fedin quello del cavallo questo è ancora le città e gli uomini quel libro che vi ho detto rarissimo che ho soltanto io e ve lo faccio vedere da lontano e di mano mia che è questo prego i giorni si trascinavano come un branco di cavallo espossato attraverso la steppa riazza vi era in essi una gioia animalesca per ogni oncia di detriti di grano e per i pochi grammi di pesce putrefatto ed era strano vedere che l'oncia di gioia animalesca bastava nascondere da sola la sconfinata felicità umana morire a poco a poco giorno per giorno minuto per minuto morire perché le gambe si gonfiavano e le gengive sanguinavano morire così e sapere con certezza che al mondo vi è la morte improvvisa che inonda il corpo di gelo voluttuoso contemplare da lontano la ridda e giacere come un masso nell'interminabile silenziosa agonia ci può essere al mondo una sorte più meschina e desolante ma come possiamo sapere quale sorte sia meschina e quale sublime forse il meglio di quanto ci donarono quei giorni fu l'esaltazione amara e silenziosa della fame forse le once di gioia animalesca hanno contrapesato tutta la felicità umana che è mai esistita sulla terra ciò disse ad andrei l'uomo dal gorgogliante accento orientale quando fu il momento di pronunciare qualcosa all'in di fuori di un ordine la rivoluzione borghese ha bisogno di scrivani tu sai scrivere dunque scrivi allora andrei gridò con voce stravolta non voglio scrivere mi fa schifo razzolare tra le scartoffie quando intorno a me tutti si battono fino alla morte l'uomo dall'accento orientale rispose caro compagno perché credi che un uomo in tempo di rivoluzione debba sparare col fucile che ti dice che la tua rivoluzione non sia una rivoluzione di carta poi scostandosi si voltò alla rivoluzione non piace essere contraddetta bisogna stare sempre allegri e davvero in quei giorni c'era gente che non aveva perduto la letizia dell'anima il commissario della divisione di andrei si accingeva a sposare una donna bianca in pelliccia di coniglio il commissario era ospitale amava la società i compagni i fratelli d'arme e voleva celebrare grandiosamente le nozze come si celebrano nella steppa all'aperto non gli bastavano i cavalli perciò chiese in prestito al medico della divisione la cavalla grassa che gli serviva per girare in città il medico ha consentito in città c'era meno da fare le condizioni di salute della truppa andavano migliorando poteva andare a piedi per un giorno o due passò un giorno ne passò un altro la cavalla non tornava il medico non riusciva a incontrare il commissario alla fine si decise a interrogare la moglie la donnina in pelliccia di coniglio la cavalla si meravigliò la donnina in pelliccia caro dottore ma l'abbiamo arrostita e servita agli invitati al pranzo di nozze se sapesse che invitati che avevamo non possiamo tacere l'armata a cavallo Babel la scrive nel 26 sono una serie di racconti che lui raccoglie come cronista sul confine con la Polonia Babel è un autore strepitoso anche questo molto difficile assolutamente molto difficile da seguire ma assolutamente straordinario in questi scenari meravigliosi quasi dillici quasi georgici ci sono questi personaggi per i quali bianco e nero non c'è moralità non c'è giudizio è per quello che sono scrittori strepitosi straordinari e anche molto sospettati dal 34 il regime stabilisce il realismo socialista e quindi bisogna tutti andare allineati e coperti come si dice a Firenze in questo caso vediamo due brevi brani dall'armata a cavallo il primo dal racconto si intitola Jedali ma il polacco sparava mio carissimo signore perché lui era la contro rivoluzione voi sparate perché siete la rivoluzione ma la rivoluzione è gioia e la gioia non ama avere orfani in casa l'uomo buono fa cose buone la rivoluzione è un'opera buona di uomini buoni ma gli uomini buoni non uccidono allora vuol dire che la rivoluzione la fanno gli uomini cattivi chi dirà Jedali dov'è la rivoluzione e dove la contro rivoluzione in passato io ho studiato il Talmud mi piacciono le glosse di Rashid e il libro di Maimonide e ci sono delle altre persone a Zitomir che hanno senno ed ecco che tutti noi che siamo gente istruita ci gettiamo con la faccia in terra e gridiamo a voce guai a noi dov'è la dolce rivoluzione il vecchio tacque e noi scorgemo la prima stella a spuntare sul limitare della Via Lattea viene il sabato sentenziò con gravità Jedali e gli ebrei devono andare alla sinagoga signore compagno aggiunse Jedali levandosi in piedi cilindro quella nera torricella gli scivolò di lato sulla testa portate a Zitomir un po' di gente buona perché di essa c'è tanta scarsità portate uomini buoni e noi daremo loro tutti i nostri grammofoni noi non siamo gente ignorante l'internazionale noi sappiamo cos'è l'internazionale e io voglio un internazionale di uomini buoni io voglio che ogni anima sia tesserata che le si assegni una razione di prima categoria ecco anima cara mangia per favore e prendi dalla vita il diletto che ti spetta l'internazionale signor compagno voi non sapete con cosa la si mangia la si mangia con la polvere risposi al vecchio e la si innaffia col sangue migliore è chiaro il limite è sempre molto sottile no? sembra sempre che sia una parodia che si prenda in giro quelle che sono invece le parole d'ordine dell'esercito il personaggio leonarrante non dice di essere ebreo ma è evidentemente ebreo non dice che i cosacchi sono antisemiti ma si capisce immediatamente nell'episodio successivo la mia prima oca nella quale lui viene praticamente gettato lui è un ingegnere viene gettato fra i cosacchi i quali quando sanno che lui è un ingegnere gli prendono la roba e gliela buttano nel campo dicendo tanto sei una mammoletta eccetera allora lui per guadagnare un po' di stima fa una cosa orribile ovvero va da una donna che ha una fattoria gli decapita un oca e gli impone di cuocergli quell'oca allora questo gesto così assolutamente moralmente molto discutibile gli fa guadagnare un sacco di punti invece ai cosacchi e i cosacchi quindi gli parlano e gli chiedono di leggere proprio un articolo di Lienin ma invece di dire oca dove si vede benissimo che si viene da un altro posto potete dire gallina anatra ma con quelle bianche col collo lungo come le chiamate voi ok cosa si scrive cigni a diritto cigni no cigni 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 cosa si scrive sul giornale chiese il ragazzo dalla chioma di Lino e si spostò per farmi posto nel giornale Lienin scrive dissi io tirando fuori la pravda Lienin scrive che da noi c'è carestia di tutto e ad alta voce con la solennità dei sordi io lessi ai cosacchi il discorso di Lienin la sera mi avvolse nella vivificante umidità delle sue crepuscolari lenzuola la sera appoggiò le palme delle sue mani materne sulla mia fronte arroventata io leggevo ed esultavo e attento seguivo esultando la misteriosa curva della retta di Lienin vorrei che la ripetessi sentite che bellezza io leggevo ed esultavo e attento seguivo esultando la misteriosa curva della retta di Lienin bellissimo la verità fa prudere il naso a tutti disse Sukorov quando finì di leggere ma il bello è tirarla fuori dal mucchio e lui la coglie con un sol colpo come fa la gallina col grano questo disse di Lienin Sukorov capo plotone dello squadrone comando poi andammo tutti a dormire nel fienile eravamo in sei a dormire lì ci si riscaldavano un l'altro intrecciando le gambe sotto un tetto bucato che faceva passare le stelle io sognai vidi delle femmine in sogno e solo il mio cuore che si era macchiato di un delitto gemeva e sanguinava vorrei adesso citare Boris Pilniak è un autore che non è molto conosciuto questo romanzo però è veramente bello si intitola L'anno nudo lo faccio vedere anche qui L'anno nudo è un romanzo che esce nel 22 ed è un romanzo veramente molto bello perché è un romanzo delirante costruito come un film con tutte cose abbastanza oniriche in una città ipotetica non si sa dove nella steppa sperduta che ha dei rapporti con Mosca sì ma insomma abbastanza complessi dove uno dei protagonisti è il treno anche questa è una cosa bella la rivoluzione russa è una rivoluzione di treni cioè il treno con cui arriva Lieni nella stazione Finlandia i treni con i quali si muovono le truppe i treni con i quali si muovono le derrate alimentari che vengono requisite per Mosca e che spesso sono oggetto anche di come dire sì ecco si dice lo diciamo ma lo diciamo dopo adesso invece leggiamo un pezzetto è il caos va bene la Russia è il caos prego entrò Semen Ivanovich un vecchio rivoluzionario con la barba come Marx si lasciò cadere in poltrona accesa in quieto una sigaretta grossolana Natalia sì sono stati in città immaginate quel che succede non c'è più nulla d'inverno tutti muoiono di fame e assiderati manca un certo sale senza del quale non si può fare l'acciaio e senza acciaio non si possono fare le seghe non c'è niente per segare niente per segare la legna d'inverno le case gelano per un certo sale orribile sentite che orrore che orribile morto silenzio guardate la morte è più naturale della nascita della vita intorno tutto è morto fame scorbuto tifo vaiolo colera le foreste i burroni pullulano pullulano di briganti sentite che morto silenzio è la morte nella steppa vi sono villaggi dove è morto anche l'ultimo insetto nessuno seppellisce i morti e di notte nell'oscurità frugano cani e disertori il popolo russo e nelle città la rivolta popolare dei viottoli portò la morte sui grandi corsi si dibattevano automobili impazzite soffrendo i tormenti dell'agonia gli uomini si inselvatichivano sognando il pane e le patate gli uomini facevano la fame non avevano luce e gelavano gli uomini abbattevano steccati case di legno per riscaldare la pietra che moriva la rossa vita sanguigna aveva abbandonato la città come se mai vi fosse stata ed era giunta la vita bianca cartacea la morte la città moriva senza essere nata e fu orribile in primavera quando come incenso a un funerale nelle strade si consumavano fuochi fumosi che bruciavano le carogne che avvolgevano la città in una nafa letale nelle strade depretate saccheggiate insudiciate con le finestre infrante con le case sprangate con i tetti rotti e gli uomini che prima andavano al ristorante con le cocotte che amavano le donne senza bambini che avevano mani senza calli e verso i 40 anni le tabe che sognavano a monaco che avevano gli ideali di Paul de Koch ed erano stati educati alla tedesca volevano ancora ancora rapinare depredare la città già a cadavere per trasportare quanto avevano rubato in campagna barattarlo con grano conquistato con i calli per non morire oggi per rimandare la morte di un mese per poter di nuovo di nuovo scrivere le loro carte amare ormai con pieno diritto senza bambini attendere bramosamente il putrido passato non osando capire che per essi era rimasta una sola cosa emanar fetore di morte morire e che il desiato passato non era che la morte la via alla morte diciamo che non usa mezze finte quindi è veramente impressionante lui non si sa spiegare anche lui un altro di quelli non si sa spiegare come mai non è molto amato dal posere nel 38 entra l'alluvianca e non si è più saputo niente c'è un brano molto interessante anche qui non dà nessun giudizio morale ma da queste due pagine si sente anche questo eros che piano piano viene fuori da questa terra i bolshevichi sono come portatori anche di questa pulsione sessuale che non è una pulsione sessuale bella no no è proprio bestiale prego il treno 57 misto zeppo di uomini di farina e di sporcizia striscia attraverso la nera steppa saccheggiata cade cade nel deserto della notte la neve bagnata turbina il vento cigolano i vagoni e c'è sempre tempesta in questo romanzo notte tenebra freddo ed è già da lontano nel nero abisso brillano le rosse luci dei falò di raselmad terribili come un miraggio nel delirio neri vagoni dove gli uomini stanno seduti in piedi sopra altri uomini nessuno dorme ma i vagoni tacciano sordamente il treno si ferma lentamente cigolano le ruote ardono i falò accanto i falò gli uomini sono ammassati nella neve e intorno sono sparpagliati i sacchi l'isba della stazione è silenziosa nella tenebra in gruppo si radunano i capi dei vagoni del treno 57 mist neve vento due si allontanano ritornano per un momento il capo stazione compare presso l'isba parla come un condottiero silenzio mormorio e i capi dei vagoni corrono in fretta lungo il treno nel vagone c'è buio il capo chiude la porta alle proprie spalle nel vagone c'è silenzio che c'è domanda qualcuno in modo sordo il capo ha il respiro affannoso e sembra allegro donne ragazze dico a voi dice il capo in un bisbiglio frettoloso c'è l'ordine di mandare le donne che sono meglio da loro dai militari non ci posso far nulla dice e nel vagone c'è silenzio soltanto il capo respira ragazze donne allora silenzio le donne devono uscire non c'è niente da fare trasportiamo grano grano lo sapete di nuovo silenzio allora manios andiamo la voce suona come una corda che si spezza dai vagoni le donne escono sospettose nella tenebra nella neve e dietro di esse vengono richiuse in fretta le porte le donne si raggruppano in silenzio senza parole aspettano i cavi ronzano si avvicina qualcuno osserva dice bisbigliando vi siete radunate tutte andiamo niente da fare è per via del grano salvateci donne ragazze le ragazze che sono integre non ci vadano che dire che farci poi le donne sostano a lungo davanti all'ultimo vagone del treno approvvigionamenti finché non accorre un ragazzino con la camicia fuori dalla cintura ah le donne siete stanche ad aspettare le donne ci occorrono per prima cosa dice egli allegramente ma siete un'intera mandria mica ce ne servono tante vi è pigliata la voglia su donne scegliete in una quindicina di voi quelle che sono meglio badate però che siano sane notte nevica nevica ronzano i cavi ulula il vento tremano i fuochi dei falò nell'ufficio davanti al capo stazione si affollano i capi dei vagoni e atteggiano le voci a un tono assurdamente dolciastro e piagnucoloso a gara di menandosi offrono al capo stazione meloni alcol cogna che sigarette tabacco stoffa tè tagli di stoffa tagli di indiana ed altro il capo stazione per far passare più presto la notte racconta con tono da felma e sciallo storielle e salaci e i capi vagoni ridono in modo dolciastro e ripugnante abbassando pudicamente gli occhi all'alba il treno 57 misto fischia sussulta come vertebre che si stacchino dalla colonna vertebrale e parte da raso e matto grano l'ultimo testo nel quale volevamo parlare è il dottor givago ovviamente non possiamo adesso leggerlo tutto in russo si è fatto una certa si era pensato anche di far vedere il film tutto ma anche quello di David Lin dura diverse ore allora così la buttiamo là ne parleremo all'inizio del prossimo incontro così chi è interessato deve tornare è come la bibliografia altra parte se vi interessa dovete venire però per concludere voi sapete che Pasternak scrive questo romanzo che viene pubblicato soltanto in Italia nel 57 e procurerà diversi problemi all'editore Gian Giacomo Feltrinelli il partito comunista non gliela fa passare tanto liscia non si capisce come mai in fondo è un romanzo che parla proprio della guerra civile vi ricorderete il protagonista dopo la guerra rimane isolato da Tonia proprio perché viene viene preso dalle truppe non lo posso raccontare come va a finire perché si era detto non si fa ma per concludere invece l'incontro di oggi e rimanare alla prossima volta invece un discorso un pochino più articolato se mi riesce su Dottor Zivago leggiamo la lettera che i redattori di Novi Mir molto carinamente Novi Mir era la rivista alla quale Pasternak aveva mandato il Dottor Zivago per essere pubblicato ecco invece i giornalisti di Novi Mir riuniti in assemblea ve li dovete immaginare che stilano questa lettera per Pasternak redazione fumosa i firmatari della presente hanno letto integralmente il manoscritto del suo romanzo S maiuscolo da lei lei sotto maiuscolo sottoposta alla rivista Novi Mir e desiderano comunicarle in tutta franchezza i pensieri scaturiti da tale lettura sono pensieri inquieti e gravi a metterci a disagio nel suo romanzo è stato qualcosa d'altro un aspetto che nella redazione della rivista nell'autore stesso hanno il potere di cambiare tagliando o riscrivendo qua e là il problema il problema sta nello spirito stesso del romanzo nella tensione emotiva che lo pervade nel modo in cui l'autore vede le cose della vita poco importa se quella visione sia davvero la sua personale o solo un'impressione che prende forma nella mente del lettore è di questo che sentiamo il dovere di discutere con lei a quattro occhi quanto abbiamo da dirle potrà starle bene oppure no ma è un parere collettivo che non c'è ragione di considerare prevenuto per cui ci sembra che valga la pena se non altro di starci a sentire lo spirito del suo romanzo è uno spirito di mancata accettazione della rivoluzione socialista la tensione emotiva che pervade il suo romanzo va tutta nel senso della contraddizione lei sembra voler negare che la rivoluzione d'ottobre la guerra civile e le trasformazioni sociali legate a questi due eventi abbiano portato al nostro popolo altro che sofferenza l'unico risultato a sentir lei è stato l'annientamento fisico o morale della classe intellettuale russa mettendo a sistema le posizioni che emergono dalle sue pagine il giudizio dell'autore sul passato del nostro paese soprattutto sul primo decennio dell'epoca post-rivoluzionaria nel quale poi si conclude il romanzo stesso epilogo a parte si può riassumere così la rivoluzione d'ottobre è stata uno sbaglio gli intellettuali che l'hanno sostenuta hanno ricavato dal loro concorso soltanto sciagure irreparabili e tutto quello che è successo dopo è stato il male dal momento che la nostra posizione è l'esatto contrario della sua siamo convinti quindi lei capirà che far uscire il suo romanzo sulle pagine di Novimir sia del tutto impossibile grazie a tutti